Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Sì lo so, non dovrebbe essere un vlog questo, perché non ho avuto tempo di registrarlo. Comunque, oggi è il mio compleanno, 20 marzo. Tanti aguguri a me, e tu nel video. Grazie per i 46 iscritti, questo vlog è anche per gli iscritti ma non solo. Ho fatto domanda alla partnership perché Youtube, me lo ha chiesto e io ho compilato il modulo e adesso mi stanno controllando il canale. Abbiamo raggiunto le 2500 visualizzazioni al mese e sono davvero molto entusiasto. Probabilmente mi compro le Asicap, così vi farò un video su qualche giochino da 4 soldi. Sto scherzando rotti i puli, credevate davvero di passarla liscia. Beh non è così. Grazie vi voglio un cazzo, e volevo dire, un casino di bene. Voglio salutare il mio fratello Lethal Naken 98, saluto anche fan Ultra 27 e Mother Black Bell, che mi sta facendo una canzone solo per me. Wow, come sono eccitata, udia. Saluto la mia migliore amica, credevi davvero che non ti avrei salutata? Ti dovresti vergognare. Letta. Ringrazio di cuore Lethal Naken 98, possiamo fare due comici a Made in Sud, troppo che siamo divertenti, quando critichiamo un film di merda, come i Promessi Divorziati. Cazzo, abbiamo preso il posto di Yotobi. Sto scherzando, Yotobi è inimitabile, lord. Con questo vi saluto, tanti auguri a me e grazie per i 45 iscritti. Viva la FIBE e che Satana la benedica. Ciao.